Hai mai vissuto una fase iniziale di una relazione in cui ti sei sentito veramente soprafatto da attenzioni, da tanti complimenti, da eccessivo affetto? Ecco, questa tecnica viene conosciuta e nota come love bombing perché viene usata dai manipolatori affettivi per conquistare e per controllare l'altro. Questo video vi sorprenderà perché parlerò di un love bombing atipico in vari contesti sentimentale, sociolavorativo, familiare, ma anche nel mondo del digitale dove questa manipolazione è più subtola e insidiosa. Ed ecco, in questo video vediamo cos'è il love bombing, perché ha così tanto successo, quali sono i segnali e come possiamo difenderci. Perciò cos'è love bombing è una tattica manipolatoria che viene usata da una persona, ok, per influenzare il comportamento dell'altro, per creare un legame emotivo forte con l'altro tramite eccessivi complimenti, eccessive attenzioni, presenza, regali. Ecco, i segnali sono un po' questi, eccessiva ammirazione precoce. Fin dai primi incontri quella persona ti riempie di complimenti, ti manda tanti messaggi e non può vivere senza di te, ti fa sentire molto al tuo agio, soprattutto nei primi incontri, ti senti speciale. C'è un'eccessiva adorazione nei tuoi confronti sin dai primi incontri. tutto troppo è veloce, tutto troppo bello per essere vero. Per esempio un genitore può usare il love bombing, e adesso parliamo dell'ambito della famiglia, un genitore può usare con i propri figli il love bombing tramite eccessivi elogi, complimenti, regali, per ottenere obbedienza, per ottenere dipendenza emotiva, per togliere a questo l'autonomia, l'indipendenza e anche eccessiva presenza, eccessiva presenza nella propria vita proprio per limitare l'autonomia, per limitare l'indipendenza del proprio figlio. Nel contesto lavorativo invece le dinamiche sono meno evidenti, sono più subdole. Ecco per esempio un superiore ti può riempire di elogi, di complimenti, nessuno mai come te fino a questo punto, nessuno mai è stato così bravo ad arrivare a questi risultati, nessuno mai ha fatto questo. Perché lo fa? Prima di tutto per ridurre la tua capacità di critica nei suoi confronti, per ottenere la tua fedeltà, per ottenere la tua lealtà sul lavoro. Ma attenzione nel giorno di oggi anche per sovraccaricarti di lavoro e questo succede spesso, ti dice no te lo do a te perché tu sei bravo, tu sei perfetto per fare questo lavoro, ti do a te questo progetto per favore guida tu questo progetto perché solo tu sei bravo eccetera. Ecco attenzione a questi segnali di allarme. Un'altra forma tipica di love bombing è questa, non ti riempie di elogi, non ti riempie di complimenti eccessivi, di attenzioni eccessive, ma attenzione ti fa capire, ti lascia immaginare un futuro seducente, un futuro super prosperoso. Perciò attenzione il manipolatore affettivo descrive, ti fa immaginare ok, ti induce a pensare ad un futuro super positivo ok, ad un contesto ardentemente desiderato da te. Perciò non necessariamente ti devi fare dei complimenti, riempire di complimenti, elogi eccetera, ma ti fa capire che ecco se stai con me, se non so ci metteremo insieme, ecco cosa avrai, ecco quale sarebbe il tuo futuro, ecco se lavori con me, ecco cosa, dove porteremo questa azienda, ecco quale sarebbe il tuo ruolo in un futuro eccetera eccetera. Una forma più subdola invece, ma molto presente nell'oggi, è il love bombing nel mondo del digitale. Succede anche a me, è successo anche a me, succede anche a voi, succederà anche a voi, quando si riceve un'immensità di elogi, 40, 50 commenti, messaggi molto positivi, sei il Dio intera, sei speciale, sei fantastico, per poi ritirare l'affetto ok, per poi diminuire e addirittura svalutare. Tutto questo per cosa? Per indurre obbligo e controllo sull'altro. Ma perché il love bombing ha tutta questa presa? Perché ha successo il love bombing? Perché il manipolatore affettivo sfrutta il nostro desiderio di connetterci con gli altri, ma anche di attenzione, di approvazione. Perciò questo affetto incondizionato, questo affetto smisurato nei tuoi confronti, viene offerto sin da subito. Ecco come si scivola facilmente in una dipendenza emotiva, ok, che poi questa dipendenza rende difficile, no, vedere la manipolazione per quella che è. Come ci possiamo difendere invece? Sicuramente, ecco questo video aiuta, osserva i comportamenti, perché tutto quello che arriva subito in immense quantità di affetto, arriva subito, è troppo, ecco, è troppo vero per essere sano. Tutto quello che è sproporzionato, tutto quello che è sin da subito così incondizionato, smisurato, tutto per te, tu sei speciale, io ti voglio così come sei. Ed ecco, mantieni l'indipendenza, mantieni una certa distanza, mantieni i tuoi spazi. Non diventare assorbito totalmente da questa relazione, cioè esiste una vita intorno a me. Attenzione anche ai confini, perché queste persone, i manipolatori affettivi, invadono la tua privacy, vogliono sapere di te, vogliono sapere tutto di te, perciò attenzione a questo segnale. Stai attento a queste relazioni che iniziano così, in modo molto veloce, dove ti mostrano affetto eccessivo, poi ritirano l'affetto, ok? Poi inizia una lieve svalutazione, lievi mascherate, umiliazioni, ok? Ecco, in un rapporto che si consolida, ti aspetti che si costruisce insieme, che comunque il rapporto diventa sempre più solido, no? Ma non c'è spazio per umiliazioni, perciò non c'è un periodo di, come dire, di beatitudine, sei perfetto, sei speciale, eccetera, e dopo ti svaluti. Un altro segnale che voglio sottolineare, è un segnale di allarme molto importante e ci tengo a precisare questo, che succede, ok, in una relazione con un manipolatore affettivo, che tu hai questo senso di piena realizzazione, magari, non lo so, ti aiuta ad avanzare in carriera, oppure ti fa viaggiare il mondo, oppure, non so, ti paga l'università e te lo ricorda tutti i giorni, che vivi in quella casa e che ti paga l'università, eccetera, eccetera. Perciò, attenzione, che rende tutto molto difficile, non capisci che si tratta di una manipolazione, perché dietro a questi comportamenti, no? Di quasi beneficenza nei tuoi confronti, ecco, si nasconde una fetta di oscurità. Ed ecco, in conclusione voglio dire questo, che è fondamentale riconoscere il bombing per quello che è, perché può vestire varie forme in vari contesti. Ed è essenziale mantenere una equilibrata prospettiva per difendere il proprio benessere. Grazie che siete stati con me, spero che vi è piaciuto, spero che questo contenuto vi sia stato utile. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se lo avete sperimentato e in quale di queste forme. Noi ci vediamo presto con altri contenuti, spero, interessanti per voi. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale. Se avete bisogno di una consulenza di coaching, trovate qua il mio sito e potete prenotare una consulenza e noi ci vediamo presto presto.